Il Paese sta soffrendo. Ci sono tanti fenomeni di disserso idrogeologico, frane, allagamenti. Abbiamo bisogno di investire immediatamente in termini di proposte, di idee, ma soprattutto di cantieri sul tema della sicurezza idraulica nel nostro territorio nazionale. Il governo Renzi aveva fatto un grande piano, capace di rivoluzionare davvero il Paese e metterlo in sicurezza. Decine di miliardi di investimenti, 1.400 cantieri aperti. Il governo giallo-verde ha bloccato tutto e abbiamo bisogno di riattivarci immediatamente perché il Paese ha bisogno di sicurezza. E allora chiediamo che questa volta l'Italia sia unita. Sia unita nel ripristinare il progetto Italia Sicura, sia unita nell'investire in termini di sicurezza idraulica e di sicurezza del territorio, sia unita nel votare tutti assieme una grande strategia per difendere il Paese. Grazie.